Ciao ragazzi, nella puntata di oggi non c'è molto da parlare, anzi parliamo di un solo argomento fondamentalmente che è quello di Baldur's Gate Baldur's Gate è un problema per quanto riguarda il pauper per il semplice fatto che non ci sono le carte non ci sono le carte su Magic Online per due motivi o sono state praticamente stampate così poche su Magic Online che non c'è disponibilità delle carte oppure semplicemente non esistono proprio perché non le hanno programmate per quanto riguarda il primo problema di mancanza di disponibilità fondamentalmente Wizard ha già detto che sta cercando di andare a sopperire a questa mancanza andandole a integrare la presenza delle carte nelle ceste in qualche altra maniera il problema è che non andrà a risolvere la situazione mancano delle carte queste carte sono ovviamente tutte le solite carte con iniziativa e e che è in Quartificer ma in realtà ce ne sono anche alcune di altre carte con ad esempio l'avventura l'unica maniera per far sì che Wizard o meglio che l'azienda esterna dei Break Games li vada a mettere dentro su Magic Online andare a rompere le scatole fondamentalmente l'unica maniera è che tipo un sacco di persone comincino a scrivere su Twitter andando a taggare Daybreak Games e Wizard che sia Magic Online Wizard Italia quello che è andandogli a dire guardate c'è questo problema provvedete in modo da far sì che venga risolto in modo che possa anche Wizard fare pressione e chiedere all'azienda di inserirli il fatto è che è una cosa un po' un po' strana come funziona questo subappalto perché rispetto a un appalto per paesi come l'Italia praticamente viene affidato il lavoro all'azienda esterna che è Daybreak Games e poi praticamente non c'è nessuna obbligazione vera e propria da parte dell'azienda esterna cioè non è che gli vengano chieste le cose e le faccia ma semplicemente ci sono le obbligazioni contrattuali e poi basta non deve essere praticamente toccato e ovviamente per quanto riguarda noi giocatori non possiamo permetterci di di avere ancora questo problema di non avere le carte su Magic Online per il semplice fatto che si va a formare un formato vero e proprio alternativo a quello che è una realtà e ovviamente a prescindere dal fatto che sia bello poter giocare con le carte sia che sia cartaceo che sia online anche perché comunque la maggior parte di noi giocatori gioca quasi solo cartaceo c'è sempre il problema del fatto che Magic o meglio buona parte del Magic e praticamente la totalità del Pauper la salute del formato viene vista attraverso Magic Online non avere delle carte che sono palesemente determinano palesemente il metagame farà sì che praticamente sarà difficile fare delle valutazioni sul formato o comunque si faranno delle valutazioni sul formato che non siano effettivamente il veritiero al 100% su quello che è il formato è un po' come se immaginatevi non esistessero carte come Monarcha o che so Deadly Dispute nel formato il fatto è che Monarche facendo un esempio sempre Deadly Dispute sono carte talmente forti che e palide nel formato che è inevitabile che siano state giocate e si continuino a giocare ci troviamo in una situazione molto simile dove queste carte qui non ci sono su Magic Online e quindi magari non impatteranno al pari di carte come che so Counterspell o Monastery Swispion però comunque sono o sono o possono essere rilevanti e comunque si sono viste tipo anche nel top pot di gli eventi che ci sono stati nel nel fine settimana del Popper Ghetto di Pisa ed è strano che non ci siano quindi ragazzi semplicemente scrivete su Twitter che è il social network a cui Wizard dà effettivamente un orecchio e scrivete e lamentatevi fatelo praticamente ad ogni occasione che capita se vedete che volete montarvi un mazzo ma non potete perché mancano le carte su Magic Online gli iscrivete al massimo fate anche un ticket lì sui problemi di Magic Online per cui manchiano carte o altro gli iscrivete e gli domandate bisogna semplicemente rompere le scatole e fondamentalmente gli italiani sono bravi a rompere le scatole per quanto riguarda sempre il problema di Baldur's Gate poi c'è anche da parlare dei Cancelli perché come vi dicevo carte come Hip Gate Seagate Citadel Gate Basilisk Gate sono tutte quante carte che sembrano essere più giocabili di quanto potessimo aspettarci inizialmente questo perché c'è Basilisk Gate che è una carta che personalmente ritenevo ingiocabile che è più forte cioè è forte e a prescindere dal mazzo comunque un sacco di persone stanno provando questi Cancelli in diverse liste e il fatto che Basilisk Gate vada a fornire una win con non dico dal nulla però molto più cioè praticamente è gratuita perché comunque state giocando 3 4 terre colorless in un mazzo che già gioca che può giocare se giocare i Cancelli come terre doppie e questo fa sì che praticamente lo potete giocare un po' ovunque tipo questo un V-Control ma l'ho visto anche in Boros Metalcraft ad esempio oppure come nella lista di Infect di Alexander Weber con cui ci ha fatto un video per il suo canale vedete anche qua potete giocare i Cancelli vabbè qua non carica perché internet fa schifo comunque ci sono i Cancelli che sono i Basi Basilisk Gate assieme ai Cancelli che fanno da Dual e effettivamente può essere una Pump Spell tradizionale vi fornisce un Meet Late Game Extra a un costo veramente nullo perché si tratta semplicemente di una terra e questo è molto interessante ma più che altro fa capire che la mancanza di queste carte qui sarà sicuramente un problema nell'immediato e quindi bisognerà andare a tenere d'occhio anche questa cosa anche per il semplice fatto che se andate a guardare su God's Bot le carte non ci sono se ci sono vengono vanno sold out subito e comunque il prezzo rimane relativamente alto per essere una staple da Pauper vedremo un po' se questa qua poi sarà soltanto una moda oppure se effettivamente va la pena sicuramente non è sbagliato e ci sono effettivamente un bel po' di mazzi che potrebbero giocare Basilisk Gate come semplicemente anche soltanto modo per chiudere la partita più velocemente pensiamo ad esempio a tutti quei minestroni mid range che si giocano in Pauper inserite questa cosa qua cioè praticamente siete messi avanti pensate soltanto alla possibilità di giocare a mazzi come possono essere BG mid range Ords of mid range Rakdos mid range se non volete giocare carte come Cleansing Wildfire fondamentalmente ci smettete un attimo inserire Basilisk Gate e un paio di cancelli per fixare il mano quindi viene veramente facile e di conseguenza si capisce quanto facilmente il prezzo il mercato di questa carta possa essere ampio di questa carta o meglio di tutti i cancelli vabbè ragazzi io non ho altro da aggiungere episodio corto ma perché semplicemente avevo soltanto questo da dirvi il prossimo episodio di domenica prossima comunque andremo a guardare un po' come si sta evolvendo il meta ho preferito comunque aspettare ancora una settimana per capire come si starà stabilizzando effettivamente il meta delle challenge è diverso rispetto a quello che era fino a un mese fa ma la cosa più interessante più che altro è l'aumento di mazzi come Mono Red Blitz perché Mono Red Blitz passa dall'essere un mazzo forte ma instabile perché gioca poche creature un mazzo forte abbastanza stabile e anche a Monastery Swizzbio per cui ragazzi ci rivediamo poi in settimana con l'appuntamento di lunedì con Power Pro Wave che c'è la prima tappa del Power Sprint che diventa una vera e propria lega Power dove chi arriverà a fare top potrà andare a disputarsi un buy per il prossimo Power Caddon e poi ovviamente la solita carrellata di replay dal Twitch ciao